Salve a tutti ragazzi e ben tornati da Alex54 e giriamo in questo nuovo video come avete letto dal titolo i cipolli da sua console che sono diventati famosi nel senso che hanno più di 2 milioni di iscritti e non potevano non fare oltre al libro che ho non potevano non fare anche l'album allora io ultimamente sto vedendo i loro video mi stanno piacendo nel senso che sono belli iniziano a piacermi visto che comunque ero già iscritto al loro canale ma ultimamente mi sto appassionando mi piacciono sono belli sono su gta fortnite fortnite non lo porterò sul mio canale gta si ho già portato quindi non potevo non comprare l'album delle figurine quindi si arriviamo a 3 mi piace e porterò domani lo speccattamento di ben 5 pacchetti arriviamo a 3 mi piace entro domani ovviamente perché io le andrò a comprare invece me le farò portare e quindi ovviamente porterò lo spacchettamento sul canale domani quindi iscrivetevi al canale mettete la campanella per non perdere nessun altro video iscrivetevi al canale anche di vincenzo e di lucia vincenzo si chiama vincenzo 52 di simone lucia si chiama soltanto lucia di simone aiutiamo lucia ad arrivare a 150 iscritti e che dire iniziamo col video allora questo qui è del castone tipo si me lo sono conservato perché mi piace con tutti i loro segni di minecraft e cosa vale e se ci so cosa vabbè comunque quindi mi piace e me lo sono tenuto ovviamente qui che sono ritagliato si va bene ritagliato si trova la carta speciale di nino il loro gatto cane non mi ricordo sapete in un pacchetto si trovano cinque figurine più le card io ne ho qua ne ho comprati quattro perché due si trovavano qua e altri due ne ho comprati solo che comunque ho trovato il doppione che è questa qua trovate il doppione di queste ovviamente doppione sono queste quelle quell'album è questo qui non vi spoiler vi faccio giusto vedere così è l'utilizzo è a livelli ciò è una specie di videogame infatti come potete vedere tutti un attimo labirinto e cose varie non ve lo faccio vedere però domani se arriviamo a 3 mi piace entro domani ve lo farò vedere il video finisce qui iscrivetevi al canale mettete la campanina per non perdere nessun altro video e ci vediamo dopo perché farò il videogame ho trovato il modo con un prossimo video ciao ciao